Io sono Luca Monti, il program manager del MasterMech. Devo dire che i ragazzi, i nostri studenti, sono stati veramente molto disponibili a collaborare con noi anche a distanza. Abbiamo fatto dei laboratori, molti laboratori pratici, attraverso anche delle simulazioni che sono andate, devo dire, molto bene. Perché comunque tutti i ragazzi sono attrezzati con le varie piattaforme online e sono riusciti anche a distanza a rimettere insieme quella forma di lavoro di gruppo così importante per noi e per chi organizza gli eventi. Noi come organizzatori di eventi siamo naturalmente dei problem solver e quindi abbiamo subito immaginato che questo lavoro potesse progredire in un'altra modalità e abbiamo voluto chiedere come scenario ad alcuni importanti assessori alla cultura, per esempio, che erano già stati con noi, di ritornare e di raccontarci quello che stavano vivendo. E' stato emozionante ed appassionante sentire Michele Guerra, l'assessore alla cultura di Parma, che ci ha raccontato questa capitale della cultura che in realtà è sospesa e che probabilmente tornerà nel 2021. Tanti hanno scelto di sospendere per un anno le attività e di ricominciare l'anno prossimo esattamente da dove erano rimasti. Poi l'assessore Filippo Del Corno, anche con gli altri funzionari del settore, ci hanno raccontato e ci stanno raccontando che cosa sta facendo Milano per la cultura. E poi anche abbiamo sentito Ancona, che ha avuto un progetto molto interessante, proprio di raccolta di diversi materiali in una forma di archivi online con l'assessore Paolo Marasca. Quindi proseguiamo e siamo fiduciosi che presto questo scenario cambierà. Lavoreremo forse più online, ma certamente la cultura tornerà.